Avevano in casa due chili di cocaina, una pistola e 700 euro in contanti. Tre persone, una donna e i suoi due figli, di cui un minore, sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Crotone con l'accusa di detenzione e fin di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre alla detenzione abusiva di armi. I poliziotti, durante alcuni servizi predisposti nelle quartiere Acquabona di Crotone, dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione, hanno deciso di approfondire il controllo all'interno dell'immobile nel corso della perquisizione in casa di una donna di 54 anni e dei suoi due figli, una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 16. È stata trovata la droga suddivisa in panetti assieme all'arma, perfettamente funzionante, insieme ai soldi e all'occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il minore è stato messo a disposizione della procura per i minorenni di Catanzaro.